Ciao, sono Francesco Amoroso, 28 anni e sono assenistro di ricerca all'Università della Calabria. Ho ideato un sistema che minimizza gli sprechi di energia durante la carica delle batterie, con un risparmio energetico ed economico di oltre il 15% rispetto ai sistemi convenzionali. Le applicazioni, se volete, anche per i vostri cellulari e i vostri reparti, nel vero grosso vantaggio è per i sistemi di accumulo dell'energia rinnovabile e per la ricarica dei veicoli elettri. Oggi ho due domande di brevezza di un prodotto di pascala ridotta. Il vostro aiuto mi serve per realizzare un sistema completo e proporne lo sviluppo commerciale a possibili partner industriali. Il vostro aiuto mi serve per realizzare un sistema completo